buongiorno ragazzi sempre stefano timolina sempre mattina non ho voluto ancora cambiare il mio nome lo tengo ancora per 38 anni l'ho tenuto lo teniamo ancora per un po' oggi stamattina mentre stavo appunto guidando la mia riflessione è equilibrio cioè fondamentalmente fateci caso esistono due categorie di persone esiste la categoria di quelli che fanno non so magari hanno famiglia hanno figli seguono la casa hanno due tre lavori hanno anche addirittura gli animali da seguire tantissime cose le seguono tutte eppure in modo eccelso cioè non sbagliano niente e poi c'è un'altra categoria di persone che a malapena se ne fa già una cosa e non la sbaglia è già tanto qual è la cosa giusta allora io risponderei che nessuno delle due è giusta in realtà e poi di massima direi tutto è giusto purché ti faccia star bene ma realmente bene ora vi parla uno che per anni ha sempre fatto tantissimo e sono sempre stato un mulo io sono stato classico la persona mulo cioè io facevo 800 milioni di cose mi venivano abbastanza bene avevo anche l'umiltà di rimettermi sempre in discussione e però facevo tantissime cose ed ero felice senza dubbio però forse pensavo di essere felice perché poi non avevo più il tempo per altre cose invece in questi ultimi 4 5 anni perché anch'io mi continuo ad evolvere non senti di strano e cambierò chissà altre volte il mio pensiero oggi è questo magari fra cinque anni e un altro questa è anche la serenità un po di essere tranquilli un essere bigotti che ho detto una cosa e adesso la vita così sarei stupido quindi invece potersi confrontare anche dire serenamente ho sbagliato oppure la pensavo in modo diverso oppure hai ragione tu la vedo una cosa molto intelligente da fare ma a prescindere da questa cosa voglio proprio dire il fondamento per arrivare a qualsiasi situazione nella vita sta proprio nell'equilibrio non si può neanche pensare di hai in mente un tuo obiettivo non devi fare il mulo non devi ogni costantemente essere focalizzato non significa diventare ossessionanti perché diventa secondo il mio punto di vista autodistruttivo allora quello che è importante è avere sì la focalizzazione verso quello che tu vuoi realizzare mettere in preventivo che sarai costantemente soggettato a distrazioni che è normale fa parte dalla vita magari un giorno è la febbre magari non ti va bene una cosa magari litighi con la famiglia magari perdi il lavoro qualsiasi cosa è normale che in quel momento lì la focalizzazione si sposta ma la capacità è semplicemente poi ritornare sul punto di partenza cioè dire io devo arrivare di là avrò da cambiare un po' la strada non importa non fa niente chi se ne frega la farò più lunga la farò più corta la farò più in salita ma poi ritorno ancora lì così cosa succede che si vive in modo sano e seri paradossalmente anche sereno è l'obiettivo diversamente sono quelli che solo l'obiettivo solo l'obiettivo solo l'obiettivo ma che vita di merda è ma scusatemi un attimo ma non è così e ve lo dice uno appunto che da poco da 4 5 anni che fa questa cosa quindi ritagliatevi se volete veramente ottenere tante cose dovete semplicemente avere appunto la saggezza di avere l'equilibrio e di dare gli giusti spazi a tutto a dormire a mangiare bene a godersi la vita a rilassarsi a non fare un cazzo ci sta ragazzi non siamo dei cyborg non siamo delle macchine quindi anche il fisico ha bisogno di relax di sport attività fisica guardarsi un film quello che volete tutto ci sta l'importante che voi prendete una sorta di torta immaginaria le dividete con degli spicchi quindi il momento famiglia il momento relax il momento fancazzismo il momento lavoro e quando c'è il momento lavoro è lavoro non è ma si piano piano no 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 se l'argomento è lavoro lì deve essere al massimo come al massimo relax come al massimo la vita quindi ragazzi il segreto che almeno io faccio ormai appunto a questi 4 5 anni è l'equilibrio in generale e saper avere tutto nella vita non solo una cosa spero di essere anche a questo giro stato un po utile e se non sono stato utile pazienza anzi vi invito siccome siete tantissimi a scrivermi ditemi pure degli spunti se vi posso essere utile se vi interesso vi ringrazio spero di arrivare al lavoro c'è un traffico della madonna oggi non so cosa è successo e forse tutti a guardare i miei video sono proprio pirla grazie Grazie.